Sono una mamma che lavora e come tutte le mamme, come tutti i papà, ho cercato di sopportare mio figlio con la scuola in quest'anno così particolare. Prima del progetto ABF, sia in presenza che con la didattica a distanza, la sfida è stata quella di non farlo sentire abbandonato di fronte a questo nuovo modo di fare scuola e soprattutto cercare di farlo rimanere appassionato nonostante non avesse tutti gli strumenti adeguati e in assistenza. Per me la difficoltà era quella di far coincidere sempre i miei impegni lavorativi con quelli scolastici di Tommy e anche di avere una formazione adeguata in tutte le materie. Grazie al progetto dell'Andrea Vocelli Foundation per l'innovazione didattica e la didattica digitale, Tommy ha ricevuto un tablet dalla scuola dove ha trovato carità di tutti i materiali di studio e i contatti utili per lui. Un atelierista digitale ha supportato dai suoi insegnanti nel modo di fare scuola a distanza, mettendo mio figlio nelle condizioni di seguire le lezioni senza la mia continua presenza e assistenza. Oggi il tablet, come il portatile, sono diventato una parte integrante del suo modo di fare scuola, sia tra i banchi che a casa. Addirittura a volte è lui che scopre delle funzioni sul tablet che io fino ad oggi non avevo ancora mai utilizzato. Un esempio? La realizzazione di video, disegnare dal vivo con i compagni le storie che inventano, un piccolo regista insomma. Tommy adesso è autonomo nel fare le ricerche, compilare i test e condividere documenti digitali e ne sono molto entusiasta. Guarda, ti faccio vedere cosa abbiamo fatto oggi io, Marco e Giulia. È bellissimo! Credo che il valore del progetto sia proprio questo. Tecnologia al servizio di un percorso molto più importante. Il piacere di fare ricerca, di scoprire e di curare se stesso e il proprio talento e anche quello degli altri. La mia voce, il mio grazie, sono quelli di tante famiglie che sono già beneficiari a BF. La speranza è che presto tanti altri bambini possano avere la stessa opportunità e quindi accedere a un'istruzione come questa, completa, semplice e coinvolgente sia a casa che a scuola.